L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella didattica rappresenta un'importante opportunità per studenti e insegnanti, a condizione però che vengano considerati anche gli aspetti etici. Questo è il messaggio emerso durante il convegno L'Arte di Imparare, l'intelligenza artificiale nella didattica, tenutosi a Palazzo Lombardia. Al centro dell'incontro la presentazione delle linee guida redatte da un board tecnico di esperti di Regione Lombardia volto ad analizzare le implicazioni etiche dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole e fornire indicazioni per un utilizzo consapevole. Vogliamo innanzitutto sottolineare l'importanza dell'approccio etico e quindi portare il tema dell'intelligenza artificiale nelle scuole senza perdere però di vista l'aspetto umano. Quindi mettiamo al centro lo studente, la persona e la sua dignità. È così anche stata sottolineata l'importanza di formare i docenti affinché questa tecnologia venga utilizzata come supporto alla didattica senza però sostituire il ruolo degli insegnanti. Quindi l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire i docenti ma potrà essere di ausilio importante per potenziare la didattica e quindi anche per favorire il successo formativo dei giovani. L'obiettivo delle linee guida diventa anche quello di iniziare a parlare ai ragazzi di questi temi in modo mirato e introdurli ad un uso consapevole dell'intelligenza artificiale fornendo loro limiti e strumenti adeguati per sfruttare al meglio questa tecnologia. Il processo a passo con i tempi vuol dire introdurre un insegnamento consapevole di questa tecnologia a partire ovviamente dalle scuole superiori e ovviamente poi a cascata anche le università che io seguo e si sono già attivate in questo senso con percorsi e con linee di studio e percorsi di studio legati all'intelligenza artificiale.